Come possiamo vedere questo è un naso modellato dalla natura che potrebbe essere utilizzato come fermacarte ed anche come portapenne tribale. Ma oltre a questo abbiamo una meraviglia della natura che è uno scarto dell'uomo che sarebbe un sughero da rete dove la natura ha modellato a suo piacimento questa lumachina. Credo che ci sia stato anche l'animaletto qua sotto un tempo.